Il Comune sta andando abbastanza bene, sicuramente non è uno dei periodi più difficili che abbiamo avuto. Già in pochissimi giorni siamo passati da 53-54 contagiati a 47 mi pare oggi, quindi la tendenza è quella al calo. L'idea e la decisione che ha preso la Regione non ci ha dato molta soddisfazione perché intanto è stata presa un'unica settimana di riferimento, mentre nelle settimane precedenti noi avevamo già molti casi in calo. In più non l'abbiamo presa benissimo perché quando l'Italia sta parlando di riaprire, quindi con un grande senso di contentezza direi, proprio nella semplicità dei termini, a noi ci viene chiesto un sacrificio. Un sacrificio poi per cosa? Perché un comune come il nostro, delle nostre dimensioni, non porta un risultato importante a livello di numeri regionali. E quindi un po' ci siamo sentiti di dover fare un sacrificio noi quando in realtà in passato ci sono stati molti momenti ben peggiori anche nelle altre province e delle Marche. Ad ogni modo siamo sempre stati una comunità che rispetta le regole e quindi lo faremo anche questa volta, anzi colgo anche il suggerimento del prefetto, proprio stasera avrò un incontro con protezione civile e i carabinieri in congedo chiedendogli di darci una mano nella gestione dei parchi, perché comunque tutto rimane aperto, tutte le attività produttive, economiche sono aperte, l'attività motoria vicino a casa si può fare, quindi si può portare anche un bambino al parco, ai giochi, stando sempre nel rispetto delle regole, quindi mascherina, distanziamento e tutta quella igiene di cui si è parlato in questo anno e oltre, che va sempre bene.